Eccomi qua con un video sui trucchi della principessa. Allora sappiamo che spesso le bambine di una certa età ma anche molto piccole, la mia ha iniziato quando aveva 4 anni, ci chiedono di truccarci. E però io mi sono trovata davanti chiaramente ad una difficoltà, cioè trovare dei trucchi adatti alle bambine e che quindi non contenessero cose che potessero far male. Ci sono tantissimi siti dove potete trovare le sostanze che sono nocive per la pelle, chiaramente non solo per la pelle delle nostre bimbe ma anche per la pelle di noi adulti. E' chiaro che come mamma sono magari forse più attenta a quello che può mettersi mia figlia in faccia di quello che magari posso mettermi io. Però siccome ho avuto delle reazioni allergiche anche appunto da parte dei miei bimbi perché giocavano magari con dei semplici trucchi non da adulto ma anche trucchi da bambini e poi toglierli appunto lasciavano tutto l'alone rosso anche per una giornata intera, ho cercato qualcosa che fosse adatto alle pelle delle bambine che potesse comunque rispondere al loro gioco che quindi potessero comunque corrispondere al fatto che loro volessero truccarsi. Tempo fa vi ho già parlato degli smalti snails che sono questi qui e tutti questi trucchi li trovate sul sito e giochiamo assieme. Io spesso vado su questo sito e spesso ve ne parlo perché ha delle cose davvero carine e di qualità ottima. Questi qui sono smalti di cui appunto ripeto vi ho già fatto il video che si tolgono con l'acqua. Questi sono i brillantini, noi abbiamo vari colori, chiaramente il blu Elsa non può mancare, poi abbiamo il rosa e quindi vi rimando magari a quel video per guardare che cosa sono questi smalti che vi ripeto non hanno bisogno di acetone ma si lavano con l'acqua. Eccolo qua, quindi sono totalmente lavabili. Ma questa volta vi voglio parlare della trussa che ha portato Babbo Natale a Livia. Allora intanto va bene il classico specchietto, i pennellini, il pennellino per pettinarsi le sopracciglia eccetera eccetera ma questi trucchi sono veramente fantastici. La marca è Brosly, non so esattamente come si pronunci, comunque eccola qua, eccola qui. E allora ci sono varie polveri per il corpo, noi abbiamo la polvere argentata di Elsa che chiaramente non poteva mancare, diciamo la polvere dorata sempre per il corpo, la polvere rosa, guardate che bei colori. Allora arriva così, adesso eccolo qua, c'è l'adesivo che si stacca e poi c'è i buchetti, adesso io purtroppo ho anche male alle mani perché con questo freddo mi si sono tutte rotte. Comunque ecco qua, vedete che non so se si nota che ci sono i buchini da cui esce la polverina. E poi gli ombretti per gli occhietti, eccolo qua, vedete che ci sono i buchini, qua si vede meglio perché l'avevo già aperto che chiaramente l'azzurro di Elsa se l'è voluto mettere subito. Abbiamo anche chiaramente i pennellini adeguati per mettersi l'ombretto sugli occhi e il lucida labbra. Lucida labbra con oli essenziali, profuma ed è sicuro. Quindi io vi posso dire che ho guardato anche sul sito Giochiamo Assieme e c'è un post molto carino dove spiegano le sostanze che fanno male, quelle più conosciute, chiaramente i parabeni, alcuni tipi di coloranti, di profumi, parabeni, eccetera, eccetera. Chiaramente questi non li contengono e sono a base di minerali naturali. Io ve li posso consigliare, vi dico il prezzo è chiaramente leggermente più alto, magari dei trucchi da bambina, diciamo giocattolo che si possono trovare in giro, però ne vale la pena. Semplicemente con l'acqua vanno via, non sono polverine che rimangono dappertutto. Livia gioca anche a mettersi lo smalto ai piedi, a farsi la pedicure sulle mani, insomma e con tutti questi giochi, con tutti questi trucchi, gioca tranquillamente e io mi sento sicura. Tra l'altro gioca anche con suo fratello, perché chiaramente suo fratello praticamente gioca a fare l'estetista, quindi le mette lo smalto, se l'è messo pure lui, giocano, colorano, lo mettono alle bambole. E ripeto, essendo comunque trucchi naturali, anche se loro se li mettono comunque in viso, basta l'acqua e vengono via. Spero di avervi dato comunque un consiglio utile. Ecco, vi faccio rivedere, questa è la marca, vi scrivo tutto quanto nella descrizione che così ho il tempo, vi metto anche il link al post di Giochiamo Assieme dove vi spiega tutti gli ingredienti che fanno male e che in questi trucchi non sono contenuti. Ciao ciao!